La cricca dei brutti ceffi che girano per Vicenza. Immagini tante, video in quantità, foto scattate dai cittadini che ci inviano in redazione, riprese degli angoli più disparati del centro storico, scorci dei vicoli occupati da questi personaggi che passano la giornata come turisti calati da Marte, esclusi dalle regole del vivere civile. Spacciano droga, bevono, consumano alcol anche dove vietato, importunano i passanti. Abbiamo raccontato la brutta avventura di Alessia, molestata nel cuore di Vicenza in pieno pomeriggio da un tunisino già conosciuto alle forze dell'ordine. Lui è sceso dalla bici, mi ha preso e mi ha buttato a muro e mi ha iniziato a sputare nel viso. Dopodiché gli ho dato un calcio per bloccarlo, lui mi ha ripreso e mi ha sputato di nuovo, però questa volta mi ha sputato dentro la bocca. E cosa dire di Sunday Richard, che in via Firenze aveva reagito in maniera violenta a un controllo anticovid della polizia stracciando in segno di scherno il verbale di contestazione? Questo liberiano, spesso ubriaco e molesto, già espulso non solo ha disatteso l'ordine del questore di abbandonare l'Italia, ma ha reagito diverse volte in modo sfacciato e impertinente alle forze dell'ordine. Sabato scorso è stato arrestato dopo una tentata rapina in un supermercato, ma già lunedì eccolo bighellonare ubriaco, importunando i passanti dopo aver litigato in un bar. E cosa dire di via Gorizia? I residenti, i commercianti, i passanti si lamentano per la presenza continua di migranti che non rispettano le regole anticovid e che spacerebbero droga. In questo video si passano qualcosa e chissà che cosa. In questa foto ecco un gruppetto con la mascherina abbassata, è un altro passaggio. A proposito, uno dei due seduti per terra sarebbe il presunto Sunday Richard, che poi sarebbe ripreso qui e qui di spalle, mentre in mezzo alla strada urina su alcuni bidoni in cui i cittadini fanno la raccolta differenziata. Insomma, è possibile che una società civile non abbia modo di far rispettare le leggi a certi personaggi e che non ci sia la certezza della pena, che i sindaci, nonostante tutti gli sforzi, non riescono ad avere armi efficaci per dare risposte convincenti ai cittadini? Ci vuole certezza della pena e misure poi effettive, quindi come misure cautelari e arresti che permettono a queste persone di non girare, che non permettono a queste persone di girare. Quindi è importante intervenire come ho fatto con il Ministro, la Morgese, il Ministro dell'Interno, il quale non si è ancora preoccupata di rispondere alla nostra lettera, al nostro appello. Insisteremo su questa direzione perché così non si può andare avanti.